Buongiorno a tutti. Come tante altre istituzioni anche la dantesca non si ferma, pur in questa stagione davvero avversa, non certo soltanto agli studi, e dunque la dantesca continua con la sua offerta culturale ormai consolidata nel tempo. Chi mostra e chi vuole rinnovare la sua fedeltà alla società dantesca italiana credo troverà soddisfazione nell'impegno che assieme a noi ancora molti studiosi, ricercatori, studenti e operatori dell'area dantesca destinano a questo lavoro. Un lavoro che per la sua parte, piccola o grande che sia, ha il merito, questo sì, non piccolo, di dare a questi nostri giorni, che altrimenti sarebbe difficile riconoscere come davvero nostri, un senso non astratto, ma fattivo, costruttivo. E dunque per il ciclo primaverile della lettura dantesca dantes 2020, comunico che sarà possibile seguire collegandosi sugli usuali Facebook e YouTube le letture queste registrate e già registrate, offerte da alcuni studiosi, quelli stessi che sono stati convocati da tempo nella circostanza per appunto promuovere questa lettura dantes del ciclo primaverile 2020. E dunque questo ciclo sarà svolto da tre docenti di chiara fama nei giorni in giorni specifici che sono il 21 maggio, il 26 maggio e il 28 maggio. Tutte queste letture verranno proposte appunto in registrazione alle ore 16 di questi giorni. Nella fattispecie più precisamente il giorno 21 maggio sarà Luca Carlo Rossi, docente di letteratura italiana all'Università di Bergamo, a leggere e a commentare il canto ventiduesimo dell'Inferno. Quindi il giorno 26 maggio sarà Luca Serianni, professore emerito di storia della lingua italiana alla Sapienza di Roma, a leggere e a commentare il ventitresimo canto dell'Inferno. Quindi questo piccolo ciclo di letture sarà sigillato dall'intervento del professor Antonio Corsaro, docente di letteratura italiana all'Università di Urbino, il quale il 28 maggio, il giorno 28 maggio, sempre alle ore 16, leggerà e commenterà un argomento generalmente inteso e legato più propriamente al canto decimo dell'Inferno sotto il titolo Eretici e Ghibellini intorno a Inferno 10 e ad altro. Dunque, ripeto, questi appuntamenti registrati per le letture d'Antis, a cura di Luca Carlo Rossi, Luca Serianni e Antonio Corsaro, si svolgeranno nei giorni 21, 26 e 28 maggio. Questo per quello che riguarda l'offerta delle letture d'Antis, già programmate continuativamente nel tempo, come nostre iniziative di punta. Un'altra iniziativa molto importante, anche questa continuativa, e che ha riscosso un notevolissimo successo fra gli addetti ai lavori e fra il pubblico anche più appassionato della cultura dantesca e delle opere dantesche intese nel loro insieme. Dunque, l'altra iniziativa è la proposta del workshop, di quei nostri appuntamenti operativi, la nostra officina culturale che si apre di tanto intanto per ben due volte l'anno, focalizzandosi sulle opere, in specifico su alcune opere dantesche. Il workshop di questa primavera era già stato preordinato e organizzato intorno a un argomento specifico che si è rappresentato all'orizzonte nella sequenza naturale delle opere dantesche, e cioè purgatorio, fonti, strutture. L'appuntamento è per il giorno 4 giugno prossimo venturo, per un workshop che si svolgerà tra le ore 15 e le ore 19, continuativamente. I docenti incaricati di svolgere la loro relazione e di discuterla, appunto, tutti assieme, contemporaneamente, sempre in modalità virtuale, sempre a distanza, sono questi. Carlo del Corno, dell'Università di Bologna, che parlerà di itinerari penitenziali nel purgatorio, quindi Erminia Ardissino, dell'Università di Torino, con strutture liturgiche del purgatorio. Sarà poi la volta del professor Guglielmo Barucci, dell'Università di Milano, con I sogni del purgatorio. Poi Sabrina Ferrara, della Université des Tours, l'autorappresentazione di Dante nel purgatorio. E infine Paolo Borsa, della Université des Fribourg, La gloria della lingua, i canti dei poeti nel purgatorio. Questi dunque gli argomenti, le relazioni che verranno presentate e quindi attentamente e spero fervidamente discusse, come sempre accade, per questi nostri appuntamenti di workshop. Ripeto dunque la data di questo appuntamento, che è il 4 di giugno, fra le ore 15 e 19, è un appuntamento in diretta, online, con una compresenza dei vari relatori, naturalmente in remoto. Io spero che questa offerta culturale possa incontrare, come sempre ha incontrato, nei tempi in presenza, il vostro gradimento e una vostra partecipazione, che la vostra partecipazione è quella che dà sempre alle nostre iniziative, che le fa vivere. E quindi io vi invito a partecipare in questo modo, sperando in una continuità del nostro lavoro, appunto, in grande, vasto collegamento con tutto l'uditorio degli appassionati di Dante Alighieri.